Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La Presidente della Giunta Regionale, Catiuscia Marini, ha informato l'Assemblea circa la situazione relativa allo stabilimento Nestlé Perugina, annunciando un tavolo con governo, lavoratori e dirigenti della multinazionale. Paolo Giovagnoni Entro settembre ci sarà un tavolo nazionale con il gruppo Nestlé per mantenere i volumi produttivi e i posti di lavoro su Sanzisto. Non ci si può limitare solo al bacio. Lo ha detto la Presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenendo in aula per informare l'Assemblea Legislativa sul futuro dello stabilimento della Perugina. Marini ha specificato che il tavolo con governo, regione, comune di Perugia, lavoratori e dirigenti della Nestlé avrà come finalità non solo il mantenimento dell'impianto produttivo e quindi della forza lavoro, ma anche la conoscenza della strategia che la multinazionale intende adottare quanto a investimenti commerciali e promozionali. Necessario che non ci si limiti solo al bacio e alle tavolette di cioccolata, ma si mantengano anche le altre produzioni. Solo così potremo assicurare un futuro allo stabilimento di Perugia. L'obiettivo per la Marini è di mantenere i volumi produttivi non al di sotto delle 25.000 tonnellate. Non ci rassicurano, ha detto, le smentite dell'azienda e un futuro concentrato essenzialmente sul prodotto bacio. Serve differenziare le produzioni su cui già oggi Perugia lavora e incrementarne la penetrazione. Non si possono marginalizzare le altre produzioni causando la chiusura per zucchero e forno, che danno lavoro a molti. Conoscendo il piano industriale, governo e istituzioni possono aiutare a sostenerlo, purché si punti sul mantenimento dei volumi produttivi e del lavoro, oltre che sul rafforzamento del marchio e sulla differenziazione dei prodotti. Claudio Ricci, portavoce del centrodestra e liste civiche, auspica che il lavoro prosegua in commissione e che si arrivi ad un documento unitario per salvaguardare lo stabilimento di Sanzisto. Ho apprezzato, ha detto, l'impegno dei sindacati. Serve investire non solo in termini di posti di lavoro, ma anche in termini di promozione dell'Umbria a livello internazionale, anche da un punto di vista turistico. L'Assemblea legislativa ha rinviato in commissione la mozione del Movimento 5 Stelle, con cui si propone di introdurre in Umbria il reddito di cittadinanza. Ce ne parla Marco Paganini. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha deciso all'unanimità di rinviare in commissione per ulteriori approfondimenti la mozione del Movimento 5 Stelle, con cui si propone di introdurre in Umbria il reddito di cittadinanza su base regionale. La proposta ha fatto registrare una ampia convergenza, sia pure con vari distinguo dei diversi gruppi politici. Optando per il rinvio è stata prevista una tempistica compresa tra i 60 e i 90 giorni per arrivare ad un documento di partenza da integrare con le prospettive che verranno fornite in base ai documenti di programmazione finanziaria della Regione e alle misure eventualmente adottate dall'Esecutivo nazionale. Illustrando il documento, i consiglieri del Movimento Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari hanno tenuto a sottolineare che l'obiettivo della misura sarebbe di ridurre la povertà con un supporto economico di 780 euro al mese a disoccupati, inoccupati, lavoratori precari e pensionati al minimo. Le relative risorse finanziarie, hanno spiegato, andrebbero reperite partendo da una drastica riduzione dei costi gestionali della Regione e dalle sacche di spreco e inefficienze, iniziando a ottenere di più anche dalle multinazionali che sfruttano le risorse del nostro territorio. Si sono detti contrari alla proposta i consiglieri della Lega Nord e Sergio De Vincenzi, ricci presidente, mentre l'assessore Fabio Paparelli ha messo in evidenza gli alti costi di questo tipo di intervento. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha discusso la mozione del consigliere Nevi di Forza Italia contro le sanzioni economiche alla Russia. Il contenuto dell'atto è l'esito del voto nel servizio di Marco Paganini. La Regione Umbria dovrebbe farsi forte del suo patrimonio spirituale, del suo ruolo di cooperazione e di azione per la pace, per sollecitare il Governo nazionale a superare la scelta delle sanzioni alla Russia. Questo è l'obiettivo della mozione che il capogruppo regionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, ha illustrato ai componenti dell'Assemblea legislativa. La discussione che ne è eseguita ha visto convergere gruppi di maggioranza e di opposizione verso la decisione di rinviare in commissione il documento di indirizzo, accogliendo la proposta del consigliere Chiaccheroni, del Partito Democratico, mirata ad implementare il dispositivo inserendo lotta al terrorismo, questione profughi e richiamo alla collaborazione tra superpotenze. Prima del voto il proponente ha rimarcato gli effetti negativi dell'embargo alla Russia sull'export italiano ed anche sui conti delle imprese Umbre che avrebbero subito una significativa contrazione delle esportazioni verso quel paese. Politiche e strumenti di gestione dei flussi dei migranti in Umbria. Prima e terza commissione hanno ascoltato l'assessore regionale al welfare Luca Barberini. Vediamo. In una riunione congiunta della prima e terza commissione, presiedute da Andrea Smacchi e Attilio Solinas, si è parlato dell'accoglienza dei profughi e nello specifico con l'assessore regionale alla coesione sociale welfare Luca Barberini, delle politiche e strumenti di gestione dei flussi dei migranti a livello regionale. È emerso un quadro che vede l'Umbria a livello percentuale, in linea con i numeri nazionali. La potenzialità di accoglienza assegnata dal Ministero è attualmente di un massimo di 1.932 profughi, l'1,65% della quota nazionale. Alla data dell'8 settembre sono stati registrati 1.151 profughi richiedenti asilo, 906 a Perugia, 245 a Terni, e sommati ai 364 richiedenti ospitati in strutture SPRAR, il sistema di protezione per i chiedenti asilo e rifugiati, si è raggiunta la cifra di 1.515 presenze. L'assessore ha comunque rimarcato come i numeri siano estremamente fluttuanti, in considerazione che arrivi e partenze dalle strutture SPRAR, decisi dalle prefetture, sono continui. Tra i dati più indicativi, sottolineati anche dai numerosi interventi dei commissari, è che nell'ultimo periodo l'apposita commissione interregionale Umbria e provincia di Arezzo, formata da prefetture, questure e organizzazioni internazionali che si occupano di rifugiati politici, su 469 domande di asilo politico ne ha accettate 18, mentre 16 richiedenti hanno visto riconosciuta la protezione sussidiaria. Per 100 domande è stata riconosciuta la protezione umanitaria. Il resto delle istanze è stato rigettato, 42 per irreperibilità. Illustrato in seconda commissione il nuovo piano regionale dei trasporti 2014-2024. Insieme all'assessore Chianella presente l'ingegnere Ciurnelli che ne ha curato la stesura. Il servizio. Integrazione nella grande rete delle regioni europee, nuovi ruoli nel sistema delle regioni dell'Italia centrale, modelli sostenibili di mobilità a livello regionale. Sono le linee programmatiche e progettuali su cui è imperniato il piano regionale dei trasporti 2014-2024, illustrato in seconda commissione, presieduta da Giuseppe Biancarelli, alla presenza dell'assessore ai trasporti, Giuseppe Chianella e dell'ingegnere Stefano Ciurnelli che ne ha curato la stesura. Il piano, che verrà trattato in un unico programma con quello di Bacino, avrà validità di 10 anni con start-up quadriennale e periodi di revisione e monitoraggio triennali. Per quanto attiene alla modalità aerea, si punterà al miglioramento dell'accessibilità ferroviare all'aeroporto di Roma a Fiumicino, ad affermare il ruolo dell'aeroporto San Francesco all'interno del Bacino Centro Italia, sia come scalo per il traffico turistico e business, sia come scalo sussidiario rispetto al sistema aereoportuale di Roma per il traffico low cost. Gli obiettivi previsti per la modalità ferroviaria riguardano il miglioramento dell'accessibilità alla rete alta velocità da parte del Bacino Centro-Settentrionale dell'Umbria attraverso la realizzazione di una fermata nel tratto Roma-Firenza-Sud di Arezzo. Le ipotesi per la stazione Medio-Etruria, immersi all'interno di un tavolo comune tra le regioni Umbria e Toscana e Trenitalia, portano alla zona di Farneta di Cortona. In merito alla modalità stradale, si punta a migliorare l'accessibilità alle reti centrali transeuropee di trasporto terrestri e marittima, migliorare le caratteristiche prestazionali e di sicurezza della rete stradale di interesse nazionale, affermare il ruolo della piattaforma logistica Umbra come sistema a servizio di tutto il Bacino del Centro Italia, garantire adeguati livelli di fluidità e di sicurezza della viabilità primaria in corrispondenza del nodo di Perugia. L'assessore regionale ai trasporti, Giuseppe Chianella, ha risposto in seconda commissione a una interrogazione presentata dai consiglieri Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico e Valerio Mancini della Lega Nord in merito al ripristino della tratta città di Castello Umbertide dell'ex Ferrovia Centrale Umbra. Chianella ha spiegato che la Giunta e Umbria Mobilità Esercizio hanno già svolto degli incontri in merito quantificando gli interventi in un anno di lavori e circa 6 milioni di euro di investimento. In corso, la valutazione sul reperimento delle risorse. L'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, in terza commissione per il programma di legislatura in materia. Davide Mariotti Bianchi. L'assessore regionale Luca Barberini ha presentato in terza commissione le linee guida del programma di legislatura sulla sanità. Per Barberini, i conti del sistema sanitario Umbro sono buoni, ma ci aspetta un grande lavoro di programmazione e riqualificazione per rispondere ai bisogni dei cittadini. Un percorso che deve tener conto del taglio delle risorse a livello nazionale. Nel corso dell'audizione, sollecitato dalle domande dei commissari, l'assessore Barberini ha toccato molti temi. Il nuovo piano sanitario ha detto dovrà servire per i prossimi 20 anni e sarà pronto per essere discusso nei primi mesi del 2016. Il bilancio complessivo del sistema sanitario regionale chiude in positivo con 11 milioni di euro. La chiusura dei punti nascita, ha ricordato, è stata necessaria per rispondere ai nuovi standard ospedalieri chiesti a livello nazionale. Il rapporto tra aziende ospedaliere e università è una grande opportunità e va rinnovato e fatto ripartire. Importante poi il dato sulla mobilità attiva che è migliore di quella passiva. Nel 2014 infatti abbiamo speso 94 milioni e ne abbiamo incassati 102. Affrontato poi il lavoro di contenimento delle liste d'attesa sul quale verrà fatto un punto il prossimo 30 settembre. Barberini ha poi ricordato che i 40 milioni di tagli per l'Umbria del Fondo Sanitario Nazionale per il 2015 ci obbligano a razionalizzare evitando che in più strutture si ripeta lo stesso servizio. Non si può, a detto, fare tutto in tutti gli ospedali. In questo modo possiamo puntare sulle eccellenze, mettendo in rete tutte le strutture regionali e rendendo più stretto il rapporto tra ospedali e servizi territoriali, che sono la prima risposta ai bisogni di salute dei cittadini. Audizione in terza commissione della Presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini sulla proposta di legge consigliare contro le violenze causate dall'orientamento sessuale. Il servizio è di Marco Paganini. La Presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini è intervenuta ai lavori della terza commissione dell'Assemblea legislativa su invito del Presidente Attilio Solinas per una audizione sulle coperture finanziarie della proposta di legge contro le violenze causate dall'orientamento sessuale, l'iniziativa dei consiglieri del Partito Democratico, Chiaccheroni, Leonelli e Solinas. Marini ha spiegato che si tratta di una legge che mira a combattere le discriminazioni e che per questo rientra nelle misure che l'Europa finanzia attraverso il Fondo Sociale. Per la Presidente della Giunta, inoltre, l'atto legislativo andrebbe coordinato con una analoga iniziativa dell'esecutivo regionale in attesa che il Governo nazionale emani disposizioni che potrebbero garantire ulteriori fondi. Le valutazioni della Presidente Marini non hanno trovato però la condivisione del gruppo Ricci-Presidente che con Sergio De Vincenzi e Claudio Ricci ha avanzato pesanti riserve sull'impianto e sulle finalità del provvedimento. E anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana. Grazie. 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 Grazie.